ANSA, ANCONA, 24-7, Nessun tempo, nessuna umanità è nemica o fuori del Vangelo, e una Chiesa credente e missionaria deve essere capace di offrire ragione della speranza che predica. Dell'umanità di oggi, piena di ferite, la Chiesa è sempre madre e sempre amica. Il card. Edoardo Menichelli ha preso congedo dalla diocesi di Ancona Osimo, di cui è stato arcivescovo per tredici anni, presiedendo nel Duomo di San Ciriaco Stracolmo di Fedeli, nonostante il maltempo, una celebrazione eucaristica che è stata, anche una sintesi del suo mandato pastorale. Nell'Omelia, che il cardinale ha concluso molto commosso, senza nascondere le lacrime, due i passaggi centrali. Chiesa di Ancona Osimo, l'esortazione, ama la famiglia, custodici, evangelizza, cura e salva la famiglia, spesso oggi sedata da desideri, che sono diventati diritti, e che non rispondono minimamente né alla ragione umana né tantomeno al piano di Dio. Poi, l'invito ad avere uno sguardo amorevole verso le nuove generazioni.